Grazie Il pistacchio è pistaggia vera e non è una pianta nostra, è una pianta orientale che da noi non cresce da seme. E allora da noi ci sono due specie che crescono di macchia di literraneo, che sono il lentisco, pistaccia lentiscus e il terebinto, pistaccia terebintus. Il terebinto è una pianta fortissima che ha una resistenza bestiale. E allora da noi per impiantare il pistacchio si innesta sul terebinto. Quindi la base, infatti, quando tu abbandoni il pistacchio da sotto, spunda il selvatico che è il terebinto, che è una pianta nostra di macchia mediterranea. Quindi quando lui parla di pistaccia parla sempre di questo terebinto. Parla del terebinto e poi sopra ci hanno innestato il pistacchio. Questa è una pianta. Questa è la pianta. Questa è la pianta. Che è la pianta. È un paio. Questa è una pianta. Questa è la pianta. Io non ho speduto. Questa è la pianta. S�fehle. Ain't got no cash, ain't got no style Ain't got no girl to make you smile But don't worry Come si chiama Grille? Come si chiama Grille? Chi Grille? Grillei Grillei